Di fronte alle sfide del mondo e alle nuove istanze di evangelizzazione nella Chiesa, siete chiamate ad attingere al carisma del Fondatore Chevalier per dare nuovo slancio alla vostra missione. È stata questa una delle indicazioni di Papa Francesco e partecipanti al capitolo generale dei missionari del Sacro Cuore di Gesù, ricevuti in Vaticano. Da qui l'invito a tenere lo sguardo fisso su Gesù per mostrare con le opere l'amore appassionato e tenero di Dio per i piccoli, gli ultimi, gli indifesi, gli scartati e della terra. E' l'esortazione ad intensificare l'impegno per la giustizia e per ridare dignità ai diseredati. Andare dovunque, ha detto Francesco, un essere umano attende di essere accolto e aiutato. Attenzione, è stato il monito del Papa, a non cedere poi al male del clericalismo che allontana il popolo e specialmente i giovani della Chiesa. Quanto è urgente oggi il compito di educare e accompagnare le nuove generazioni ad apprendere i valori umani e a coltivare una visione evangelica della vita e della storia. Questa è che molti definiscono una vera emergenza educativa e, senz'altro, una delle frontiere della missione evangelizzatrice della Chiesa, verso le quali tutta la comunità cristiana è invitata ad uscire. Grazie a tutti.